Hanno chiuso interi reparti, hanno ridotto i posti letto dei reparti tradizionali, hanno bloccato gli interventi chirurgici, hanno bloccato gli ambulatori per far venire medici ambulatoriali a fare i medici per i reparti covid. Arrivano ogni giorno in maniera esponenziale, hanno triplicato praticamente i posti di rianimazione e volevano chiuderci l'UTIC. Non so quante UTIC sono state chiuse, per cui anche la rete STEMI è stata chiusa e stanno decentrando tutto. Niguarda sta scoppiando a 30 intubati covid, tutte le reanimazioni sono quasi piene, si sta pensando a un numero di triage dei rianimatori per distribuire i pazienti sui letti di rianimazione e decidere chi intubare e chi lasciar morire. In cardiologia non ci hanno ancora ricoverato i covid, ma è subdolissimo la possibilità di identificarli, perché non te ne accorgi, non li becchi inutili, abbiamo avuto uno shock cardiogeno per 5 giorni, la strada EPA e ieri che gliel'ho ripetuta tutti i giorni, l'infettivologo non aveva detto un cazzo. Il radiologo stasi e congestione del piccolo circolo, ieri ho telefonato al radiologo, tu senti questa qua, secondo me è una polmonite, e c'aveva la polmonite, ora gli hanno fatto il tampone, ma sicuramente è un paziente covid, ci metto la mano sul fuoco. Non si riconosce, ma soprattutto, voi non avete idea, non lo dicono in tv, quanti giovani, per giovani intendo anche ventenni, richiedono la CPAP e hanno delle polmoniti orribili e non hanno comorbidità. Quanti degli anni 70, nati negli anni 70, hanno polmoniti? Una marea, è inimmaginabile. I medici ormai non vengono, a parte che non abbiamo i presidi, ma non vengono neanche più messi in quarantena o scrinati col tampone, e ti dicono, se tu hai avuto un contatto e non hai sintomi, vieni a lavorare. Se hai dei sintomi, decidi tu se venire a lavorare o se rimanere a casa. È tragico. Adesso stanno assumendo tutti gli specializzanti del Policlinico, per esempio, che la mia morose è lì, e al Policlinico c'è un solo padiglione su tre o quattro che non è destinato ai covid, si aspettano 50 polmoniti al giorno. Cioè, è drammatica, la cosa non la si dice in giro. Bisogna assolutamente che la gente lo capisca. Ciao a tutti, tutte e tutti. Non so a chi verrà destinato questo messaggio, ma Kate mi ha chiesto di mandarle una nota audio un po' esplicativa di quello che sta succedendo. Io sono Martina, sua cugina, alcune di voi mi conoscono, altre no, forse solo per sentito dire. E faccio il cardiologo in terapia intensiva a Milano. Allora, la situazione è molto seria, nel senso che fondamentalmente questo virus che sta girando è estremamente contagioso. È vero che in tanti non causa sintomi, è vero che tanti se la cavano senza troppi problemi, ma è anche vero che tante persone sviluppano quella che si chiama una polmonite interstiziale bilaterale che fondamentalmente ha bisogno di un supporto ventilatorio. Non abbiamo farmaci perché è un virus, quindi gli antibiotici non funzionano. Stiamo dando dei cocktail di farmaci che si usano in virus tipo l'AIDS, ma in via del tutto sperimentale. Non sappiamo se funzioneranno o no. L'unica cosa che si può fare in questi casi è intubare il paziente e quindi far respirare la macchina, mettendo a riposo i polmoni, aspettando che il sistema immunitario lo sconfigga. È vero che quelli che muoiono sono spesso anziani e con copatologie, ma ci sono anche tanti giovani in terapia intensiva. Il nostro più giovane ha 38 anni e non aveva altri problemi. Il problema vero è che tanta gente ha bisogno dell'assistenza ventilatoria e non ci sono ventilatori per tutti. Già ieri nel mio ospedale mi hanno chiamato, io sto nella terapia intensiva cardiologica, chiedendomi di dargli uno dei nostri ventilatori, ne abbiamo solo due rimasti, e io glielo ho dato e una paziente che era stata estubata il giorno prima e quindi in questi casi non realmente si tiene il ventilatore lì vicino perché a volte vanno in crisi e devono essere rintubati, se questa va in crisi il ventilatore non c'è. Fondamentalmente ci hanno detto che da questi giorni dovremmo iniziare a scegliere chi intubare, quindi privilegiamo i giovani e quelli senza altre patologie. Anni guarda che all'altro ospedale grande non intubano più oltre i 60 anni, che è veramente veramente giovane come età, per cui la situazione è molto seria, è molto contagioso, 14 giorni di incubazione, quindi se anche una persona se l'è preso sta 14 giorni completamente asintomatico e può infettare un numero incredibile di persone, per cui il concetto è che l'unico modo per non avere un'ecatombe è far sì che ci siano meno contagi possibili e che qualora ci dovessero essere fossero più possibili dilazionati nel tempo, in modo che, perché se io ho 10.000 persone infette tutte allo stesso momento, noi abbiamo 3.000 ventilatori in Italia, se 10.000 hanno bisogno di essere intubati e ventilati, 7.000 muoiono, se invece riesco a, diciamo, spostare più in là il contagio, ridurre la velocità di contagio, quando si ammalano i nuovi, i vecchi già intubati, verosimilmente saranno guariti e avranno liberato il ventilatore. L'unica cosa che si può fare sono le cose che stanno già dicendo in giro, quindi stare a casa è vero, niente cinema, niente mostre, niente passeggiate in giro, negozi il meno possibile, scuole chiuse, talcio il pomeriggio chiuso, niente cene fuori, evitare il più possibile di stare a contatto con altre persone, lavarsi le mani, funziona bene il sapone e le soluzioni alcoliche, quindi tipo la buchina, il virus un po' sulle superfici rimani, ma resiste 30-40 minuti, l'unico modo per essere sicuri di bonificare è con la candeggina, lavare con la candeggina e lasciare a contatto la candeggina per 30 minuti. Fondamentalmente voi a Roma state come stavamo noi a Milano dieci giorni fa ed è sicuro che in dieci giorni c'è stata un'escalation incredibile della cosa. La Lombardia, il collasso, è la regione che a livello sanitario sta messa meglio, per cui non posso pensare cosa potrebbe succedere se la cosa si estende alle regioni meno efficienti. Per i bambini non ci sono casi gravi, alcuni bambini sono positivi, ma tendenzialmente come con tutte le virosi tipo varicella, morbillo e quant'altro, tendenzialmente anche se se le prendono sviluppano una forma molto meno aggressiva dell'adulto, però sono degli untori pazzeschi, perché magari il bambino se lo prende non sviluppa sintomi, va dai nonni, uccide i nonni con mentalmente, quindi anche lì cercare di limitare il contatto bambini-nonni. e quindi senza farsi prendere dal panico, però non è una cosa che va sottovalutata, quindi chi può rimanga in casa il più possibile senza vedere nessuno. E niente, poi se avete domande, dubbi, perplessità, io sono qui e continuo ad andare in ospedale e niente, vi aggiornerò tramite Kate sulla situazione.